Ti occupi di pubblica amministrazione e vuoi rafforzare le tue competenze? Con il progetto nuovi percorsi Formats.pa ha messo a disposizione sul suo canale YouTube più di trenta video lezioni dedicate ad abilità teoriche e pratiche utili a chi lavora con il settore pubblico. Dei percorsi formativi su temi a carattere trasversale ma anche tecnico specialistico. Cito ad esempio la privacy a carattere trasversale ma anche tecnico specialistico il tema di controlli appalti fondi a gestione diretta. 4 gli ambiti di competenze approfonditi ognuno organizzato su diverse tematiche con focus che affrontano aspetti normativi metodologici ed esempi pratici. Con le playlist di nuovi percorsi potrai accrescere la capacità di gestire e programmare fondi strutturali migliorare la gestione dei progetti complessi e lavorare con efficacia acquisire le competenze per accedere a bandi e fondi europei, gestire la transizione al digitale e mitigare il rischio di attacchi informatici. Grazie per la visione! Grazie!